Si riapre? Non possiamo riuscire a dichiarazioni, comunque si, si riapre. E a 28 giorni esatti dalla chiusura che le prime auto, come potete vedere, stanno tornando a percorrere il tratto dell'E45 che va da Caniglia a Val Savignone. Ho fatto le balze all'andata e al ritorno questa. Quanto ci ha messo all'andata e quanto ci metterà a ritorno? Un'ora e mezza e due ore e mezza. Il procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, ha infatti firmato questa mattina nel provvedimento di riapertura del viadotto Puleto, sotto sequestro dallo scorso 16 gennaio per rischio collasso. Parto da Forlì, vengo ad Arezzo una volta a settimana per lavoro e devo dire che è parecchio scomodo fare le strade secondarie per arrivare ad Arezzo. Però allo stesso tempo le facevo volentieri perché penso che questi controlli andavano fatti. Spero che questi controlli siano stati utili. L'E45 ha riaperto attorno alle 16.30 seppur con tutti i limiti delle prescrizioni imposte dalla procura ad ANAS. Ma questa misura rappresenta comunque il primo passo verso la risoluzione dell'emergenza che per settimane ha spaccato di fatto in due l'Italia. È l'isolamento totale con tanti disagi e danni per l'economia locale ma di tutta la Valtiverina. Via Libera dunque al traffico leggero sotto le 3,5 tonnellate solamente lungo le due corsie centrali e con limiti di velocità 50 all'ora con autovelox per il controllo. Tra le prescrizioni della magistratura anche l'installazione di sensori per misurare le vibrazioni e far scattare il semaforo rosso in caso di pericolo ed infine il drenaggio con grondaie provvisorie delle acque meteoriche. Ancora il problema è grande perché c'è quello del traffico pesante che è il vero danno che la nostra comunità sta subendo. Una prima buona notizia alla riapertura del viadotto ha commentato così infine il ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli che ha annunciato che il prossimo venerdì sarà presente sulla E45 per un sopralluogo.